Bazz 2.0, l'ultima frontiera dell'intrattenimento. Lo sapete, è intelligentissimo. Vediamo subito come funziona. Ciao. Sì. Sì. Va bene. Va bene. Partiamo con una grande band. Negramaro, occhio, vai. Cos'è? Cos'è sta roba? Cos'è? Sono le vibrazioni. Allora, ho sbagliato il cd. Ho sbagliato il cd. Ho sbagliato il cd. Ho sbagliato il cd. Colpa mia. Allora, piantala. Allora, i Negramaro, che ricordano, ho preso il nome da un famosissimo vino pugliese. Quindi, siete pronti? Perché arrivano davvero loro, i Negramaro. Copriti la testa, quando pensi che siano le parole. Dimmi a che serve stare lontano, lo stesso. Parlami d'amore, se quando fiore mi troverai. E' un suo respiro, l'amore. E' un suo respiro, l'amore. Perde il coniglio dalle mille acce. Cos'è? Cos'è? Eh, non lo reggo il vino. Vabbè, allora, cambiamoci il vice, occupiamo di grande pubblicità. No, la pubblicità, no, lo sai che... Come fai ad essere sempre così, pieno di soldi, di belle macchine e con un tenore di vita così alto? Faccio lo strozzino. Ascolta, la pubblicità, no, 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 non siamo pagati per fare la pubblicità, è chiaro? Oh, eh, non è possibile. Forza, grandi film. Sì, Beppe, è da un po' che ci stavo pensando, ma forse è il caso che ti prendi una bella vacanza. No, su quello hai ragione, hai ragione, perché... Prendi un aereo... Mi piacerebbe tanto. Te ne voli lontano, lontano. Sì, sì. Te ne vai in un bel isolotto. Magari. Prendi tanto sole e poi muori. Eccolo lì, perfetto. Allora, un grande film. Occhio, eh, perché arriva la paura. L'esorcista, vai. Buongiorno. Ecco. Cosa sono questi rumori che vengono dal soffitto? Ci devono essere dei topi. E invece c'è il diavolo. Oh, che bella bambina. Come ti chiami? Tu morirai. E basta saperlo. Mamma, mamma, il materasso. Aiuto, il materasso, mamma. Maledetto mastrota. Pronto? Sono Cinzian. Che cosa posso esserle utile? Vorrei un esorcista. E come un girasole giro intorno a te Che se il mio sole è anche di notte Prendimi l'anima. Va bene. No, ho tutto il vomito nella tunica Che non fa pandani. Prendi me! E si dà questo corpo. Prendi me! E si dà questo corpo. Prendi me! Prendi me! E lo prende. E si butta dalla finestra. Era un modo di dire. Era un modo di dire. Oh, ma non fare patetico. Stiamo giocando. Adriana! No, ma non fare patetico.